Musica Ciao lattini Ciao lattini Bentornati finalmente oggi Guardate cosa abbiamo acquito alle mani Comprato praticamente un'ora fa Si si l'abbiamo preso da pochissimo Perché sono una terra si è lunga E finalmente abbiamo trovato L'uovo di miracolo Meno male perché non lo trovavamo da nessuna parte E finalmente appunto l'abbiamo trovato Sì grazie alle persone che ci hanno scritto dicendo Vedi sei lunga perché io la trovi Meglio tra te che mai Ora noi sappiamo che di recensioni Insomma di Pasqua gli unboxing hanno già fatti parecchi Però vabbè ci siamo anche noi in ritardo Ma ci siamo lo stesso Guardate qui che bel faccione di Ladybug Si qui sembra E' un po' deaco Che bello E' bellissimo il cartoncino Perché ha i suoi occhi veri crompenti Che spaccano proprio Sì belli E' cosa si è preso all'interno Della Valco Cioccolato finissimo al latte Che dopo mangeremo Poi c'è La trama del Non del tessuto Della plastica E' a nido d'ape E c'è Sticchi e plug Vedete Tutti due insieme Sono carini plug E poi E' niente Ci sono solamente loro due E vabbè Qui dietro No Il pesato è di tua E' charlotte Vabbè ci sono L'hanno tolto L'hanno tolto Vabbè 200 grammi di cioccolata Quanto? 200 grammi Ah Andiamo ad appoglierlo Questo l'abbiamo pagato 6 5,90 5,90 5,90 Che al fine non è tanto Vi sono persone che si arrentavano Ma vabbè Non ci sta Alla fine leggi ne parlo Anche i diritti del marchio Quindi 5,90 Solo diventa abbordabile Come dire Infatti mi avremmo a prendere Quello della Kindle Delle Winx Ma 20 euro è veramente No Allora con 20 euro Adesso Serviamo con una bambola Il compo dire Mentre la bambola Delle Winx Rimix Per quanto sia buon cioccolato È nulla da dire Sì Quello sì Eh ma tanto non si sa mai Perché Dopo Pasqua Riusciremo a trovare a poco Eh Codarsi Andiamo ad appoglierci Questo Ah guardate qua C'è il solito bicchierino Questo non sembra il cappellino di Aladin Guardate che bello Adesso questo qua lo dipingo E vado in giro A marzo Con la pioggia Pertone nudo A fare Aladin Io mi devo fare un po' di lampare Allora andiamo ad aprirlo Cosa ci sarà all'interno? E mi ha visto un po' di video E non sembrano Esploso Un lato però aspettiamo Guardate qua La cazzo non ne ha Abbiamo un puzzle Ah Come lo voto quindi Sì Ma vedi che gli ovotti vengono da noi No Adesso mi voglio appoglierlo subito Adoro Pensavo che c'era una sorpresa un po' derp Invece no Perché derp? Cos'è una sorpresa derp? Una sorpresa un po' strana Vabbè Adesso lo montiamo No Eh sì Tanto la figura è questa È questa qui di MyNet Di Ladybug Bello Bello Adesso lo montiamo Lo montiamo subito Ecco qui i lattini Guardate che bello È molto carino Quindi abbiamo presenti Ladybug Su un tetto Sì di Parigi Ovviamente C'è anche il logo Mi accro sulle storie Di Baga Chat Noir Anche se Chat Noir non c'è Ma non c'è Ma è molto carino Vero? Sì sì Possiamo quasi Incorniciarlo come al solito Quest'anno di tutti Le robe che abbiamo comprato Non possiamo lamentarci No è vero Sì Sono molto carine Sì Invece abbiamo visto anche altre sorprese E era un po' Un po' così Un po' dello denti Invece no Invece pensavamo che Usciva tipo mai Il cellularino Un po' Un po' scadente Invece no È uscita una cosa Cioè Allora Io ovvio che Penso Che sia meglio Un action figure Piuttosto che Qualcos'altro Però Se devo scegliere Perfisco il puzzle Che almeno vado sul sicuro Assolutamente Come al solito Abbiamo qui il nostro gattone Chi vuole coccolarsi Ok Voi avete trovato l'uovo Sicuramente sì Fateci sapere Cosa avete trovato dentro Ma sì Perché siamo curiosi Di scoprire le altre sorprese Noi andiamo a mangiarci Tutto il cioccolato che c'era Tutto lo mangi tu Sì dice così Che in realtà Poi se lo fai fuori tutto Poi sei impertinente Noi vi salutiamo Vi do appuntamento Al prossimo video Aspettiamo qui I vostri commenti Sì Mi piace Iscrivetevi al canale Assolutamente E mandate un bacio Virtuale Al nostro concito Salutiamolo Escrivetevi anche I nostri social Twitter Facebook E Instagram Ragazzi A presto Ciao 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 Ciao